Il programma della cerimonia prevede Più tardi avremo il taglio del nastro e lo scoprimento delle targhe da parte del console e del sindaco Al che successivamente si avvicenderanno i vari relatori Le autorità invitate a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della scuola elementare Pecci Piazzolla, realizzata per donazione dell'America Sono stati invitati il console USA Il professor Michetti, presidente dell'Aggiunta regionale Basilicata Il dottor Gabriele Di Mauro, assessore regione Basilicata, Dipartimento Agricoltura e Foreste Il professor Michele Comodo, assessore regione Basilicata Il professor Onorevole Decio Scardaccione, senatore della Repubblica Il professor Mario Littieri, vicepresidente consiglio regionale L'onorevole Pasquale Lamorte, deputato al Parlamento Nonché sottosegretario agli interventi per il Mezzogiorno L'onorevole Emilio Colombo, deputato al Parlamento L'onorevole Angelo Sanza, deputato al Parlamento Il signor sindaco del comune di Buccino Il signor sindaco del comune di Marsico Nuovo Il signor sindaco del comune di Avigliano Il signor sindaco del comune di Flotta Mirarda L'ingegner Andrea Di Piervi, presidente della comunità montana Alto Agri Professor Domenico D'Alessandri Presidente della USL numero 3 Valdagri Professor Emile Romando Grazie a tutti 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 Grazie a tutti